Ne è un esempio la start-up di Valentin Wonyo, un ex ricercatore dell'Alta Scuola di Ingegneria e Gestione del Canton Vaux di Verdun. Il suo dispositivo LightMove è un sistema di diodi luminosi programmabili grazie a un'applicazione gestita su tablet. La tecnologia qui è meno visibile poiché si cela nella sofisticata rete senza fili di comunicazione studiata appositamente per LightMove. Le cellule LED sostituiscono i classici coni usati correntemente negli allenamenti. Ci siamo ispirati ai metodi di lavoro degli allenatori. Sono molto interessati allo sviluppo cognitivo degli atleti, al cervello insomma, e quindi cosa fanno? Prendono ad esempio i giubbotti florescenti e dei coni colorati e li muovono per far compiere delle azioni, per lavorare sulla visione, sulle decisioni o sulla percezione. Il grande vantaggio per l'allenatore è che può creare contemporaneamente vari tipi di esercizi per diversi gruppi di giocatori, concentrandosi solo su di essi e non sulla gestione dei vari segnali. Inoltre, le cellule luminose possono essere equipaggiate di diversi sensori. Possono misurare ad esempio la velocità di spostamento, il tempo di reazione, la potenza di elevazione, la velocità di tiro o più banalmente servono da fotocellula per l'avvio di un esercizio. Grazie. Grazie. Grazie.